La Umbro casentinese sotto la lente di ingrandimento della Polizia Municipale di Arezzo. Nei giorni scorsi, infatti, la strada regionale 71 è stata oggetto di un attento monitoraggio, in particolar modo il tratto tra case nuove di Ceciliano e l'intersezione con la strada provinciale 43 della Libia, controlli che hanno portato ad una vera e propria raffica di multe. In azione tre ufficiali e dieci agenti impegnati con specifiche strumentazioni nel controllo del rispetto delle norme del codice della strada, dalla velocità raggiunta dai mezzi alle verifiche sull'autotrasporto. Lo stop è stato così intimato ad oltre 100 veicoli e 42 sono state le violazioni elevate, 25 ad autovetture e 17 ad autocarri, di cui 13 di nazionalità italiana e 4 europea. Tra le sanzioni combinate da evidenziare le 10 per il superamento dei limiti di velocità, due per la manomissione del cronotachigrafo, altrettante per il trasporto di materiali pericolosi, una per sporgenza del carico ed infine un'altra per il mancato rispetto delle normative anti-inquinamento.